Il nuovo lanificio del gruppo Marzotto a Pisa. La cerimonia di inaugurazione alla presenza di Sua Maestà il Re Imperatore. Dopo la cerimonia il sovrano visita il complesso degli impianti di tessitura, giudicato dai tecnici uno dei più moderni del mondo. Lo stabilimento occupa una superficie di 16.500 metri quadrati. 200.000 giornate lavorative sono state necessarie per la sua costruzione. Il locale più vasto è questo salone della tessitura, con una superficie di 6.000 metri quadrati. Vi lavorano 1.300 operai e la produzione annua sarà di 4 milioni di metri di tessuto. Le maestranze acclamano entusiasticamente al Re Imperatore. Grazie. 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 Grazie.